I panni stesi di castica ormai sono entrati nell'immaginario collettivo satirico degli aretini. La loro stravaganza e anche il volerli fare rientrare in una forma d'arte risulta piuttosto faticoso. Quando poi devono anche convivere con l'antico e con la fiera antiquaria, l'accostamento sembra ulteriormente irriguardoso, stridente e un postonato, e per molti anche incomprensibile. Lo aveva già fatto notare domenica scorsa il direttore di News Mediaset Mario Giordano, ospite al Giardino delle Idee. Dal palco gli aveva già definiti straccetti. Ancora più duro all'affondo su Twitter, panni stesi dalla casa del Vasari, scriveva Giordano, sarà arte ma fa schifo. Il suo ragionamento non era poi così peregrino. I panni stesi rappresenterebbero cioè l'atavico provincialismo di Arezzo che invece di valorizzare il proprio patrimonio artistico e culturale, pensa di poter competere con altre realtà ben più rodate e conosciute su un terreno non suo, come quello dell'arte contemporanea. Sempre che di arte si possa parlare. Al di là del successo che Castiga possa suscitare, si tratta più che altro di una valutazione alla base di quello che si vuole fare ad Arezzo. E tra antico e moderno, tra panni stesi e fiera antiquaria, dovendo per forza scegliere, forse è bene che si punti sulla seconda, facendola diventare fiera nazionale, e puntare su quello che fortunatamente si può vedere e visitare senza arrampicarsi sugli specchi, o meglio su un filo di panni.